Per la giornata nazionale delle famiglie al museo, il 9 e il 10 ottobre a Novilara ci sono in programma diverse iniziative dedicate ai bambini, ai genitori, ma anche a tutti gli appassionati di archeologia. Un sito che merita ancora di essere valorizzato, dove sono state trovate 300 tombe in una necropoli con tanti corredi completi, addirittura dei pezzi preziosissimi in oro pregiato appartenenti a principi picceni. Ma sarà l'occasione, queste due giorni, soprattutto per riscoprire in generale la civiltà piccena e farla conoscere anche in forma ludica, divertente. Si parte infatti sabato alle 15 al castello di Novilara, nel giardino archeologico, con un laboratorio su panificazione e agricoltura. Poi ci sarà una dimostrazione di distillazione di oli essenziali, una passeggiata raccontata lungo le mura, tante altre iniziative ancora, anche domenica. In più abbiamo dedicato uno spazio, quindi una conferenza docche, su un tema che riguarda i borghi colinari del Comune di Pesaro. Cercheremo di mettere in campo delle proposte di valorizzazione dal punto di vista turistico, culturale e ambientale, non solo del borgo di Novilara, ma anche un po' di tutti i borghi del comprensorio pesarese.